Il più cordiale buonasera ben collegato in diretta con il palalido di Valdagno la giornata del numero 12 del massimo campionato di A1 la Ysport Hockey Club Valdagno la linea ancora Xavi Rubio cerca la conclusione posizioni assolutamente coperte e guardi inghe il Cino Mighelez può caricare la botta le formazioni, attenzione intanto a Nico Geda attraversa tutta la traversa e qui dall'altra parte gol sbagliato, gol fatto, il gol di Brendolin dall'altra parte, scivola il replay non ce l'abbiamo, andiamo subito in diretta Brendolin contro Sgaria tutto pronto, il gol il gol di Brendolin e Sardegro va sul 2-0 Franco Vanzo, Giuliano Giuliani che ruba palla al Cino Mighelez poi prova ad andare lì ma stavolta c'è la palla sotto la traversa Rubio che poi riesce a reconquistare palla e finalmente il gol il gol valdagnese con Emanuele Garcia bello lo schema, è l'unico sarà Giuliani per Garcia che va via, la mette lì per gestire Max Tiel attenzione il gol il gol di Max Tiel cosa ha trovato qui il tedesco? l'ultimo minuto, l'ultimo giro di lancette Xavi Rubio mette una gran palla lì ma succede qui Giovanni che si fa fuori Garcia gli dice di no